Io direi che possiamo farci tre tornei Qua abbiamo il livello 25 e 30 Non possiamo farci la Coppa di Tano Dove è anche la Coppa di Tano Ci darà problemi Allora la Coppa Pena e Panico mi pare che non possiamo usare i Turbi Infatti Questa invece è la Coppa di solo i Turbi E invece qua la parola delle invocazioni In invocazioni dobbiamo farmarle Invece qua non l'abbiamo farmata Noi dico se vi do like e se vi do se vi do in questo momento Oggi facciamo la Coppa Pena e Panico E' molto cringe di fare l'intro una volta che era già iniziato il video Per questi cazzi Allora mi ricordo se qua I limiti facciamo più punti O facciamo più punti se non li colpiamo con i limiti Non ho mai capito questa cosa Oh no Allora funziona la combo Più combo facevi più prendevi punti E' vero Adesso è rompe cazzo sto torneo La scelta l'ultima è lo stesso con te Un po' più Braba papà Braba papà papà Nan 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 Com'è che facciamo senza farci voltire Più ci danno punti Però un 120 e 120 non lo facciamo Qua va questo Come sembra che ne ha tipo Un 2000 punti 1.000 1.000 Ok Doveva arrivare almeno a 2.000 mi sembra Ok Buono Perché non mi colpisci Siamo in combo già doppio Buona così Let's go Abbiamo fatto comunque 200 punti Vabbè vai vai che siamo in combo di 7 Continuiamo Continuiamo Eh queste ci colpiscono Purtroppo Vabbè vai vai Non ci facciamo un po' più Anche da questi punti Non ci prendiamo più punti Buona Da 1.400 a 1.800 è ottimo Dobbiamo fare Ecco mi colpiscono sicuro Sti bastardi Questo non me l'ho mai fatto vedere Come la combo trio In gruppo Vabbè è una combo un po' brutta Raga Non Ma fordola Lано Ma fordola Oh Eh Questo è Eh Todorodododododododododoo Oh Eh 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 Beppisci Sempe E pare Anche dai dai venni a me 50 ok vabbè la 950 e questo è la semifinale ma di voi no questa quella semifinale che poi dobbiamo fare il più conti possibili allora 2.100 se è giusto siamo fortissimi se no ci è presa male andiamo a poter farci colpire perchè questi non ci danno punti perciò giulia negli uschi, vedaci veloci e tanto ciao Leonino siamo un po' troppo grossi per voi, vero? siamo un po' troppo forte, lo sappiamo che dopo, giusto giusto 2,1, dimmi che la 2,1 la mission ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa we did it! prima coppa presa, let's go! Ne so, c'è tutta una protettiva stai tranquillo dimmi di sede dimmi di sede, continui a finire con la mia no 2.000 punti perfetto signori, quindi possiamo andare a trovare anche il torneo Cerbero ci vediamo appassi io, se vai io, se vieni a questo momento e ciao ciao Ahahahah! Ahahahah!